Per la Liguria è molto importante ed è una svolta il fatto che la macro-regione oggi in qualche modo interessi anche la nostra regione. Noi siamo lo sbocco al mare mediterraneo di questa regione, fino ad oggi l'amministrazione non aveva mai partecipato alle riunioni preliminari, oggi con la nuova amministrazione siamo qua presenti e ben decisi a far valere le regioni delle Ligurie. La macro-regione alpina è una grande regione che rappresenta le più grandi aree di sviluppo dell'Europa, che deve avere una sua specificità, obiettivi comuni, sinergie, che sono sinergie logistiche, sinergie di investimento, sinergie di tutela ambientale, sinergia di sviluppo della piccola e media impresa che è il cuore del sistema produttivo europeo. A questo cominciamo a lavorare oggi, credo che sia una grande chance e una grande opportunità per tutti. La Liguria prima degli altri. Attendiamo un grande appoggio sulla realizzazione di quelle infrastrutture strategiche di cui la Liguria ha assolutamente bisogno, primo tra tutti il terzo valico, ci attendiamo che arrivi un aiuto alle nostre piccole e medie imprese, ci attendiamo che sia un sostegno al nostro porto di Genova, al nostro porto di Savona, al nostro porto di Spezia, che sono gli sbocchi al mar Mediterraneo di questa macro-regione. Ci attendiamo anche un aiuto per risolvere un problema drammatico e annoso come quello del dissesto geologico, della tutela dell'ambiente, di cui la Liguria ha assolutamente bisogno e con cui facciamo i conti da 10 anni. Grazie.